Don Franco, un incoraggiamento ai familiari così colpiti da questa tragedia. E' la misura in cui sapranno valorizzare i migliori esempi che Domenico lascia loro, a parte il calore degli affetti familiari che credo sia la più preziosa eredità perché ha profuso tutto il suo impegno per la famiglia. Credo che sia stato il principale valore, il culto, il primo culto che lui ha celebrato su questa terra, quello dell'attaccamento alla famiglia per la quale si è speso, si è prodigato, si è sciupato con una vita densa di rinunce e di sacrifici. Poi proprio il suo impegno per il bene comune, per il trionfo del bene comune, della collettività, nella grande famiglia bene amata, la seconda sua famiglia come è stato pure ricordato, che è stata la guardia di finanza. Dove veramente ha donato il meglio di se stesso, veramente ha donato quello che di più intimo lui conservava, lo ha fatto emergere e questo talento lo ha trafficato per il bene della collettività. Quindi credo che i familiari debbano essere orgogliosi e direi con Sant'Agostino, ecco, più che piangerne l'assenza, ringraziare il Signore per averglielo donato. Don Franco, probabilmente voi da vice parroco ai tempi di Don Gaetano ricordate il caro papà di Domenico, il signor Panzardi, sempre molto vicino alla parrocchia, un braccio operativo di Don Gaetano, sicuramente lo ricordo. Quindi è una famiglia davvero legatissima, diciamo, alla religione. Questo sì, diciamo. Poi forse Domenico mi pare che sia stato fuori, non lo so, non è stato sempre qui a Lauria. Ecco perché negli ultimi tempi ho avuto modo poi di riagganciarlo, perché sì, la memoria rimane in me indelebile dell'impegno anche di suo papà. E quindi c'è una sorta di prolungamento e di continuità anche da parte sua, che devo dire è stato sempre molto, molto disponibile. Io l'ho visto sempre molto gentile anche nei miei confronti. Ecco. Ecco. Grazie. 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 Grazie.